Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 29 novembre di Globus Television. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Intarda serata peggioramento sulle coste settentrionali con rovesci temporaleschi. Temperature massime fino a 22 gradi, minime stabili. Grazie a tutti.